Andiamo. Niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'ho? Che cosa? C'ho una cosa che non mi puoi dire no. Che cosa? Fa rima con razzo e pupazzo. Che cosa? Fa un sollazzo con terrazza. E che cazzo se non l'hai capito mo. Come ti amo, non posso spiegarti. Non so cosa sento per te. Ma se tu mi guardi negli occhi soltanto non lo capisci cos'è. E sai cosa c'è? C'è che io forse ho capito cosa. Era ora. Hai detto rima con pupazzo. E quindi. Con pazzo e con terratto. E quindi. Che sei un bravo ragazzo. Ecco cos'è. Ecco cos'è. Perché ti amo. Ce l'ho domandato a una più grande di me. Se ce lo domandi a Mara Maionchi. Lei non si ricorda cos'è. Che ecco cos'è. Ti prego dammi un altro indizio. 33. Adesso. Ferreri. Grazie.